Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a questo incontro di Vicino Lontano. Oggi iniziamo con il primo incontro della sezione a parte di Vicino Lontano, si chiama VL Digital, Vicino Lontano Digital, che vuole essere uno strumento in più di cui si dota questa manifestazione per ragionare un po' su tutto quello che è il mondo digitale, tutto quello che sta accadendo nell'ambito dell'informatica, delle tecnologie e della rete e un po' per capire tutti questi fenomeni anche epocali che stanno un po' sconvolgendo il modo con cui noi abbiamo a che fare con la realtà e con la nostra percezione sia come cittadini sia come, bisogna anche dirlo, consumatori. Gli incontri di VL Digital saranno sei, questo è il primo, poi avremo altri due incontri, uno si chiama Critica della democrazia digitale il 14 maggio presso la libreria Tarantola di cui abbiamo uno dei soci che hanno riaperto la libreria chiusa recentemente, Fabio Chiusi, poi abbiamo tre workshop, il primo è come sparire da internet, che sarà il 16, il secondo si chiama su Facebook ma non senza privacy, che saranno il 17, il terzo come si fa la democrazia online, che sarà il 18, tutti questi tre workshop si terranno presso il Fruly Future Forum e su una iscrizione. L'ultimo incontro avremo sempre il 18 che si chiama Algoritmo, un programma ci salverà la vita e sarà presso l'Oratorio del Cristo. Cosa importante da ricordare è che questi incontri di VL Digital sono realizzati col sostegno importante della Camera di Commercio e in particolare del Fruly Future Forum, che è questo strumento di cui si è dotato alla Camera di Commercio per poter indagare con più profondità e con più capacità anche il mondo che sta cambiando e in particolare il mondo che sta cambiando in relazione all'attività di imprese. Abbiamo con noi oggi in questo incontro che si chiama Chi sa cosa di te? tre illustri ospiti, abbiamo appunto Fabio Chiusi che oltre a essere un membro del comitato scientifico della situazione vicino e lontano, è un giornalista, blogger, che scrive intanto per il più importante giornale di casa o per uno dei giornali di casa, anzi non il più importante, se no quando mi uccidono, che è il messaggero veneto, ma scrive anche a livello nazionale sul Corriere della Sera e in particolare su Wired e altre riviste. Ha pubblicato recentemente alcuni libri per Mimesis che è una casa editrice, peraltro, con radici ben piantanti in Friuli, in particolare ti odio su Facebook del 2010 e nessun segreto, guida minima Wikileaks. Recentemente ha pubblicato Critica della democrazia digitale, la politica 2.0, la prova dei fatti per l'editore Codice. Poi, continuando sempre in ordine, abbiamo Antonio Casilli che è professore associato di Digital Humanities al Paris Institute of Technology e ricercatore in sociologia ha perso il centro Edgar Morin, il mio pessimo francese, che è un importantissimo studioso, soprattutto una delle persone che ha portato avanti il concetto di complessità. Anche ricordo giusto due libri pubblicati in Italia da parte del professor Casilli, che sono La Fabbrica Libertina per Manifesto Libri e Stop Mobbing per Derrive a Prodi. In ultimo, qui alla mia sinistra, abbiamo Mario Tedeschini-Lalli, che è vice direttore di innovazione e sviluppo del gruppo editoriale L'Espresso, responsabile internazionale della Online News Association, che è la maggiore organizzazione internazionale di giornalisti digitali e, per ultimo, insegna giornalismo digitale all'IFG di Urbino. Per cui vi lascio la parola ai nostri relatori, il titolo dell'incontro, lo ricordo, è Chissà cosa di te. Vi auguro di una piacevole serata e di partecipare anche agli altri incontri, sia di vicino lontano, ma anche di VL Digital. Grazie. Io vi faccio un po' strada qui. Vorrei illustrarvi perché ci riguarda il DataGate. Diciamo, uno dei motivi principali che ci ha spinto a fare vicino lontano, ed è una cosa con cui anche Marco Pacini era perfettamente d'accordo, era sporcarci le mani, cioè capire esattamente che cosa vogliono dire, che impatto hanno le tecnologie, effettivamente queste questioni tecnologiche che sembrano molto astratte, molto difficili da comprendere, che impatto concreto hanno sulla vita di tutti i giorni. Quindi questo è, diciamo, Edward Snowden, che è la fonte del materiale che forse, se non avete vissuto su Marte nell'ultimo anno, sapete che è esattamente il materiale della National Security Agency, che è stato appunto sottratto da questo ex contractor e che poi è stato dato ad alcuni giornalisti e ad alcuni giornali che per questa inchiesta hanno vinto il premio Pulitzer recentemente. Che cosa succede fondamentalmente? Cosa serve fare per finire nella rete di questa struttura globale, infrastruttura globale di sorveglianza, che è gestita dai cosiddetti Five Eyes, cioè gli Stati Uniti e le Gran Bretagne e i loro alleati? Beh, è molto semplice, per finire tra i potenziali sospetti, diciamo, per essere potenzialmente sorvegliati o sorvegliati, questo è ancora difficile da capire, basta fare una telefonata, col proprio cellulare per esempio, e tutte queste cose che io qui dettaglio, che poi adesso vi dico a una a una, sono tutti i modi in cui, diciamo, in cui l'NSA può sfruttare questa vostra telefonata per entrare nelle vostre vite. Può per esempio ottenere i nostri metadati, ossia tutto forché il contenuto di una conversazione. Che cos'è un metadato? Un metadato, questa è una definizione diciamo abbastanza generica, però è veramente così, cioè fondamentalmente, adesso lo vediamo nel dettaglio, c'è questa cosa laggiù che voi forse non riuscirete a vedere ma poi le pubblicherò online, questa è una cosa che ha fatto il Guardian, per spiegare la distinzione tra metadati e dati veri e proprio contenuti cosiddetti. Beh, quello che si può fare qui in questo caso basta avere per esempio un indirizzo mail, basta avere un cellulare, essere su Facebook e avere Google Plus o fare delle ricerche su Google e si può vedere che si possono, l'NSA può sapere di voi l'orario di chiamata, chi state chiamando, per quanto tempo, da dove, può sapere le vostre ricerche su Google, che termini di ricerca usate più spesso, può sapere tutte le cose che può sapere tramite Facebook, quindi veramente tante. Qui ce ne sono tantissime, non riesco a leggerle neanche io, per esempio la cosa siete iscritte, che pagine politiche seguite, con quale interagite di più, quindi è un profilo talmente ampio che ormai la distinzione tra dato e metadato diciamo ha perso quasi significato, questo è un po' parte del dibattito. In realtà però poi che cosa si scopre? A distanza di mesi dallo scopio dello scandalo si scopre che ci sono di mezzo anche i contenuti delle nostre conversazioni, addirittura del 100% delle conversazioni di interi paesi e questo si è scoperto perché il Washington Post ha pubblicato i documenti su questo programma di ricerca, su questo programma di sorveglianza che si chiama Mystic, puoi immagazzinarli fino a un mese. L'NSA può sapere sempre dove sei, perché hai dati di geolocalizzazione. Se sei un amico di un tuo amico in rubrica e considerato sospetto potresti esserlo anche tu, perché basta che c'è questa cosa che si chiama diciamo tre salti, che consente fondamentalmente di arrivare all'amico dell'amico, fino a qualche tempo fa anche di un altro livello di amico. Adesso una delle riforme che si vuole fare appunto è portare a due soli livelli questa cosa, ma basta intercettare un sospetto diciamo per avere accesso a potenzialmente milioni di soggetti e quindi anche questo non è una bella cosa. Giochi ad Angry Birds potresti essere spiato, l'NSA spiava anche applicazioni molto famose, diciamo molto popolari per smartphone come Angry Birds che tutti conoscete. Gli iPhone di prima generazione invece, questo si è scoperto diciamo tramite un catalogo che è stato pubblicato da Der Spiegel erano nel totale controllo dell'NSA, tutto, microfono, messaggi, testuali e vocali, assolutamente tutto. Se proprio non volete telefonare perché non avete lo smartphone basta che siete connessi a internet fondamentalmente e qui c'è un altro problema, cioè l'NSA si registra anche tutte le vostre comunicazioni online, anche qui si parla di metadati, anche qui la distinzione molto spesso è ballerina, perché non sempre diciamo tutto quello che fa l'NSA e quello che pare abbia fatto l'NSA secondo questi documenti rispetta la norma o il dettato della norma e questa è una cosa che si sta discutendo negli Stati Uniti se quello che viene fatto è legale o meno. Sicuramente non è bello violare i data center di aziende come Google e Yahoo o installare malware su computer o manomettere gli strumenti di protezione che abbiamo noi per proteggere le nostre conversazioni che sono fondamentalmente sono basati sulla critografia, l'NSA ha deliberatamente indebolito alcuni prodotti di larghissimo consumo usati da centinaia di milioni di persone nel mondo per comunicare in maniera sicura per poter avere accesso a queste comunicazioni, può spiare i social media in tempo reale, la vostra attività mentre state scrivendo, l'NSA può accedere a reti wireless protette in remoto fino a 13 miglia di distanza e questa è anche un'altra cosa che si è scoperta e anche se avete fatto delle video chat anche a contenuto diciamo erotico, l'NSA potrebbe essere stata lì a guardarvi perché ne intercettate a milioni e questo si è scoperto anche questo, infatti sono state molte ironie in rete anche se amara come potete immaginare. A dire il vero però basta avere un computer perché anche se sconnesso c'è una complicatissima tecnologia basata sulle onde radio che permette all'NSA di ciucciarsi i vostri dati fondamentalmente. Può anche deviare la spedizione all'NSA di un pc per installarci malware e altri strumenti di controllo, cioè questi uno ordinava un computer, il computer faceva una tappa intermedia in cui poi dopo il pacco ritornava col computer modificato. Tutto questo naturalmente è insaputa di produttore e consumatore. L'idea è che insomma se voi usate internet fondamentalmente potreste essere un, non dico un sospetto ma più o meno, ma un bersaglio sicuramente e quindi può accedere alle vostre transazioni finanziarie. Se avete una passione per i giochi di ruolo online come molte persone e il sottoscritto per primo per esempio se giocate a World of Warcraft è molto probabile che vi stessero, che addirittura alcuni agenti fossero vostri compagni di gilda, cioè dei personaggini degli agenti dell'NSA, io me li immagino, è molto divertente, c'era un documento di 80 pagine che raccontava questa cosa dove loro si infilano diciamo in queste congreghe di giocatori e mi posso immaginare una spia che si traveste da drago o da elfo diciamo per cercare di carpire dei preziosi dettagli di antiterrorismo. L'NSA può fingersi vittima di due malefatte, questo è anche molto grave, diffondere informazioni false sul tuo conto online per screditarti, tutto questo naturalmente anche sfruttando le proprie abitudini di consumo pornografico, cosa fatta, anche questa pare, per alcuni limitati soggetti in questo caso. Se sei un attivista online e per sbaglio ti piace Wikileaks e frequenti alcune chat dove appunto si parla di documenti segreti, riservati, è possibile che tu sia stato considerato come un sospetto. Poi c'è molto altro, qui si può sbizzarrire e la cosa interessante diciamo qui poi, cioè come l'NSA vede il mondo, questo è Bloomberg che aveva fatto questo grafico interattivo, era molto divertente perché come potete vedere lo vede come una continua fonte di sospetti. Questo fondamentalmente, qualunque cosa voi facciate c'è praticamente un programma dell'NSA o dei suoi alleati che è deputato a controllarvi. Non è tutto, come vedete Angela Merkel non è contenta perché noi abbiamo parlato di milioni di cittadini in questo caso, che sono secondo me almeno il grosso dello scandalo, ma di mezzo ci sono anche politici di altissimo livello, ci sono 120 leader politici, pare, dell'Italia parleremo tra un secondo, ci sono ambasciate in tutto il mondo, ci sono colossi, aziende private, colosso del petrolio brasiliano Petrobras, c'è BelgaCom, c'è grossissimo produttore cinese di hardware e software, reti informatiche, si parla di 100.000 nel mondo, ma anche qui le cifre sono ballerine per ovvi motivi, e poi c'è questa cosa che è terribilmente grave e di cui non si è quasi per nulla discusso nelle ipotesi di riforma che sono state fatte e che sono in discussione anche in queste ore, negli Stati Uniti, la compromissione degli standard di sicurezza nelle comunicazioni, cioè l'indebolire la criptografia che diciamo è la base su cui si fonda la nostra fiducia in qualunque transazione online. Bruce Neier, che è uno dei massimi esperti di sicurezza informatica al mondo, l'aveva detto a giugno dello scorso anno, quando è scoppiato lo scandalo, lui molto probabilmente i documenti non li aveva visti, si era basato semplicemente sul fatto che queste cose che vi sto dicendo adesso erano sospettate da tempo, ma non si sapevano con certezza, adesso abbiamo dei documenti riservati che lo provano e non sono smentiti tra l'altro, Bruce Neier dice assumete che tutto sia registrato e se uno intreccia tutti questi programmi, magari con un programma ti prendono i metadati di una cosa, però poi dopo alla fin fine allacciandosi ai cavi transoceanici che porta la connessione magari riescono a prendersi i dati grezzi, quindi non solo i metadati, quindi in un modo o nell'altro si può dire insomma, è ragionevole assumere che tutto sia registrato o che sia potenzialmente registrato. Beh ma che c'entra l'Italia? Uno può venire qui e dirmi vabbè mi stai parlando degli Stati Uniti, mi stai parlando dell'Inghilterra, mi stai parlando di cose lontane, chi se ne frega, no? Invece in realtà nonostante quello che dice il governo e continua a ripeterlo anche coprendosi di un certo ridicolo per quanto mi riguarda, nulla dice il governo italiano, questo lo diceva Letta che diceva di fidarsi di Barack Obama, beato lui, lo diceva Renzi che in realtà non ha detto assolutamente nulla, quindi silenzio assenso, deduco, e lo continua a dire da mesi il sottosegretario Minniti che è il sottosegretario che ha la delega ai servizi segreti diciamo, che continua a ripetere delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché l'Italia come emerge dai documenti c'entra come e quindi di fatto potremmo centrare anche tutti noi, perché i programmi NSA, questo è uno dei grossi problemi, riguardano soprattutto cittadini stranieri, cioè il grosso dibattito che c'è stato in America è stato perché in teoria la legge non consentiva, aveva delle grosse protezioni per i cittadini americani e quando si è scoperto che più o meno incidentalmente invece questa cosa riguardava anche i cittadini americani si sono abbastanza arrabbiati, cosa che invece non è successa o successa meno in alcuni paesi d'Europa e in altri di più, poi ne parliamo magari, in Italia ci siamo arrabbiati poco sicuramente, forse perché c'è anche stata la percezione scarsa di che cosa si stava parlando. In Italia per esempio abbiamo un documento che è stato pubblicato per la prima volta da Der Spiegel e poi analizzato nel dettaglio dall'Espresso che ha avuto accesso ai documenti proprio riguardanti l'Italia, ci sono stati registrati 46 milioni di quei metadati telefonici in questo caso, internet non c'entra, tra dicembre 2012 e gennaio 2013, in coincidenza notava l'Espresso con la crisi di Monti che quindi insomma era un po' di missionario, stava neanche farlo apposta, stava proprio orchestrando quel decreto che poi avrebbe dato accesso tramite delle convenzioni, questa è un'inchiesta che ha fatto anche Repubblica, a tutte le banche dati di interesse nazionale, quindi ci sono accordi, si è parlato di accordi con Telecom Sparkle, con Finmeccanica, con Poste Italiane, chi più ne ha ne metta, perché i dati che passano nei cavi, diciamo che trasportano la connessione in fibrotica sotto l'oceano, che fanno uno snodo a Mazzara del Vallo a Palermo, pare fossero intercettati dal GCHQ che sono i gemelli britannici diciamo dell'NSA, cioè degli statunitensi. Tutte queste cose potrebbero voler dire che avevano accesso anche ai dati di tutte le nostre comunicazioni. Ci sono i centri di ascolto NSA a Roma e a Milano, sono stati scoperti diciamo con tanto di fotografie sia dall'Espresso che da Panorama, c'è lo spionaggio dell'Ambasciata a Washington, qui ci sono dei documenti che lo provano dopo che tra l'altro l'ex Presidente del Consiglio negava che esistessero, che questa cosa fosse successa, e poi spiati i leader politici italiani, pare di sì, dai documenti non è una cosa chiara, lo stesso Letta aveva manifestato dei dubbi, forse potrei esserci finito dentro anch'io, insieme alla Merkel, insieme a Dilma Rousseff, insieme al Presidente del Messico, insieme a molti altri. Per i dettagli poi vi rimando all'ebook, io volevo semplicemente, siccome adesso modererò il resto dell'incontro, volevo semplicemente darvi un quadro molto brutale, se volete, anche abbastanza tagliato con l'accetta, perché poi le cose sono terribilmente complicate e ci sono un sacco di dubbi, ci sono un sacco di lati oscuri. Un po' di questi dubbi cerco di chiarirli in questo ebook che trovate gratuitamente, che è stato pubblicato grazie alla collaborazione tra Messaggero Veneto e Valigia Blu, si chiama Grazie Mr. Snowden, lo trovate sul sito di Valigia Blu, sul sito del Messaggero Veneto, è gratuito, quindi se volete approfondire potete scaricarlo lì, oppure sul mio blog, perché comunque l'ebook è stato pubblicato a gennaio e da allora è successo ancora un sacco di cose. Passerei a questo punto, diciamo, dopo avervi dato un po' quello che è il sapore di che stiamo parlando ai nostri ospiti, che è giusto che parlino diffusamente. E vorrei cominciare con il professor Casilli, perché io ho letto questo bellissimo libro che ha scritto recentemente per Springer, insieme al suo gruppo di ricerca, che si chiamava, se non sbaglio, Against the Hypothesis of the End of Privacy, an Agent-Based Modeling Approach to Social Media. Tutto questo per dire che fondamentalmente quando nel 2010 Mark Zuckerberg disse che la privacy come norma sociale era caduta in disuso e quindi di fatto stava usando una metafora, più o meno, per dire che la privacy era morta e che tutto sommato non ce ne fregava neanche più di tanto, non è proprio così, non aveva proprio così tanto ragione. Infatti questo è uno degli argomenti che si è più sentito, insomma, durante questo scandalo, anche molto in Italia, diciamo, era una cosa tipo ma che avrà detto di nuovo questo Snowden, no? Cioè siamo tutti spiati, lo sapevamo, e del resto poi la privacy, tutto sommato, è una cosa del passato, no? Ecco, io chiederei a Casilli proprio invece di spiegarci qual è il risultato di questo suo studio e perché contraddice questa ipotesi. Contraddice questa ipotesi perché già nella presentazione che abbiamo seguito qui oggi siamo di solito quando si parla delle rivelazioni di Snowden di fronte dei problemi nei quali la privacy viene evocata ma in realtà stiamo parlando di security, stiamo parlando di sicurezza informatica. Gli esempi che sono stati dati e anche certe piste di soluzioni che sono state avanzate insistono moltissimo sull'aspetto tecnico, l'aspetto tecnico che prevede dunque che i cavi sottomarini siano stati toccati o allora che i metadati siano presi e catturati dall'NSI o che ci siano delle infiltrazioni in network. Questo tipo di approccio non prende in conto il fatto che la privacy è prima di tutto per tutti noi un aspetto del nostro quotidiano, è un aspetto del nostro quotidiano che si basa soprattutto su un insieme di comportamenti che servono a limitare l'intrusione degli altri. Questi altri non sono necessariamente degli agenti di governi stranieri o dei nostri governi o non sono per esempio delle aziende che cercano di recuperare i nostri dati a dei fini pubblicitari. Prima di tutto gli altri che noi conosciamo e che minacciano la nostra privacy sono le persone che fanno parte del nostro quotidiano, le persone che fanno parte dei nostri circoli di conoscenza, che fanno parte delle nostre amicizie o delle nostre famiglie. Questo è prima di tutto la maniera in cui la privacy è considerata dagli utilizzatori qualunque, se vogliamo, di internet o di grossi network generalisti come per esempio Facebook. Quello che succede attualmente e quello che succede in realtà da diversi anni è che progressivamente i proprietari di questi network sociali o di media sociali come Facebook o come Google Plus oppure altri come Twitter cercano progressivamente di far perdere agli utilizzatori la facoltà di gestire chi vede cosa delle loro informazioni personali. E questo è un aspetto che inizialmente era stato presentato ma in realtà voglio dire, lei ha citato Zuckerberg nel 2010 che aveva affermato che appunto il pubblico è la nuova norma sociale, il pubblico, il fatto di vivere in pubblico è la nuova norma sociale e quindi in un certo modo aveva passato una specie di spugna su secoli e secoli di strutturazione della sfera privata nell'Occidente che insomma era una cosa che noi avevamo guadagnato come conquista culturale, sociale, politica praticamente allontanandoci dal Medioevo, il Medioevo nel quale la sfera privata non esisteva perché noi eravamo tutti quanti immersi in lealtà feudali o territoriali o a principi re o chiese e progressivamente c'eravamo costruiti questo. Almeno Facebook, Zuckerberg e poi altri grandi imprenditori hanno cercato di farci credere fino al 2013, fino alla Snowden praticamente, che oramai questo era una parentesi storica e questa parentesi era oramai chiusa. Dunque Zuckerberg l'ha affermato nel 2010, il presidente di Sun Microsystem me l'aveva affermato addirittura nel 1999, aveva detto in ogni modo avete zero privacy, get over it, decidetevi oramai accettatelo. E ancora Vint Cerf che è un matematico, uno dei padri fondatori di internet stesso ma che ha anche una funzione se vogliamo imprenditoriale perché è un signore che si è fatto assumere come evangelist di Google, quindi è colui che vende se vogliamo Google ai grandi attori istituzionali e lui aveva detto beh guardate la privacy è stata un'anomalia storica, scordiamocela in ogni modo. Ecco, quello che queste persone hanno dovuto ammettere dopo le rivelazioni di Snowden è che effettivamente la privacy è ancora lì, che è lì come una preoccupazione costante, dolorosa degli utilizzatori e che noi attualmente stiamo rivendicando un diritto alla privacy e per loro, per gli imprenditori dei social media e anche per gli stati attuali un dovere di garantire una privacy dei cittadini, dei consumatori, degli utilizzatori di internet e se questo è stato possibile è stato possibile grazie a queste rivelazioni. Ci ho detto se questo è stato possibile è anche perché esisteva se vogliamo un sostrato, un sostrato da parte della società civile che voleva e rivendicava e che affermava fortemente questa domanda di privacy, domanda che non veniva ascoltata ma che viene ascoltata attualmente molto di più. Se guardiamo quello che è successo nel mercato dei social media dal 2013-2014, quindi dalle rivelazioni di Snowden, c'è stato un aumento incredibile di servizi che garantiscono o che promettono in maniera più o meno corretta della privacy, penso giustamente a un network di criptografia come Tor che precedentemente era utilizzato esclusivamente da persone di dubbia reputazione, criminali e militari, o da attivisti politici ma attualmente persone che si servono di Tor dal 2013 sono anche madri e persone qualunque, ultimamente c'è stato un esempio di una ricercatrice americana, si chiama Janet Vertesi, che ha utilizzato Tor per nascondere a Google il fatto che lei era incinta, quindi si è servita di Tor non per connettersi a dei gruppi rivoluzionari, ma per comprare pannolini e passeggini. Siamo arrivati quindi a questa situazione nella quale la rivendicazione di privacy è talmente forte, il bisogno di privacy è talmente forte e del resto voglio dire, se guardiamo anche grandi notizie che hanno attraversato la cronica economica degli ultimi mesi, guardiamo il caso dell'acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook, prima di tutto Facebook non avrebbe cercato nel 2012 o nel 2010 quando Zuckerberg affermava questa cosa di comprare un servizio ad alto valore aggiunto come Whatsapp, non avrebbe cercato di acquistare Snapchat prima per 3 miliardi di dollari e non avrebbe pagato 19, in realtà 16 miliardi di dollari per acquisire Whatsapp che è un servizio riconosciuto o piuttosto identificato dagli utilizzatori come un servizio che garantisce questo tipo di privacy. Quindi la privacy era lì, era un sostrato, siamo stati immersi in una retorica aziendale se vogliamo per diversi anni, che questa retorica aziendale purtroppo è stata anche funzionale al tipo di penetrazione nella nostra vita privata che ha reso possibile all'NSA dispiarci a questo livello e che ha reso necessario che Snowden e gli altri che accompagnano Snowden prendessero questa posizione particolarmente dura, una posizione se vogliamo avversariale nei confronti dei governi americani e degli altri governi occidentali. Certo, sì, naturalmente è soltanto una piccola aggiunta rispetto a quello che dici e come suggerivi questi nuovi strumenti che promettono la sicurezza totale non sempre poi è chiaro che ottengano questo obiettivo, diciamo, si è visto in questi giorni poi il caso di Snapchat, esattamente, che probabilmente conoscete, è un'applicazione che permetterebbe, diciamo, millantava di creare delle immagini che poi dopo, dei video addirittura nell'ultima versione, che poi si autodistruggevano completamente diciamo entro tot tempo e si è scoperto che le cose non stavano così, la Federal Trade Commission si è molto arrabbiata Adalia adesso l'ha messo sotto sorveglianza speciale per vent'anni, diciamo, per la privacy e anche qui Facebook aveva provato a intervenire, si parlava di una possibile acquisizione per 3 miliardi di dollari, mi sa che sono contenti di non averlo fatto Di un dollaro, si è rivestito anche tu Comunque non solo, diciamo, ecco, il problema generale è che appunto questi strumenti che cercano di diventare sempre più semplici, sempre più acquistabili a scatola chiusa, utilizzabili poi naturalmente diventano anche meno scrutabili e quindi c'è questo trade off, diciamo, che si rischia poi di mettersi nelle mani non è il caso di Tor, perché Tor è un software open source e funziona benissimo di norma, anche perfino l'NSA, tra l'altro, ha avuto dei grossissimi problemi quando ha cercato di intromettersi in Tor, c'è riuscita solamente tramite una scappatoia attraverso una vecchia versione del browser, mi sembra una cosa del genere che era nel bando Comunque per ritornare a cose ancora di largo buonsenso, che sembrano di largo buonsenso in realtà non lo sembrerebbero davvero, non lo sono davvero Un'altra, vorrei passare qui a Mario Una delle prese di posizione, diciamo, molto famose anche, di cui si è parlato molto è quella del presidente di Google, Eric Smith, che diceva se c'è qualcosa che vuoi e nessuno sappia, forse non lo dovresti fare Cioè questa idea, appunto, che se uno non ha niente da nascondere che cosa c'è di male, è un po' quello che si è sentito l'intercettateci tutti questa cosa non ha niente da nascondere, e cose di questo tipo Tu Mario, so che sei da molto tempo, ti occupi di questo tema Prima di tutto come cittadino, prima ancora che come giornalista Le persone che hanno il colore dei miei capelli potranno ricordarlo che lo diceva il generale Videla in Argentina perché questo tipo di argomentazione è l'argomentazione di tutti certamente tutti i dittatori, ma certamente tutti quanti coloro che pensano che un governo forte e di controllo sia per il bene della società Ed è una fallacia logica drammatica perché tutti noi non solo abbiamo qualcosa che potremmo non voler far vedere ma quando anche non l'avessimo abbiamo il diritto di averla casomai in futuro Le regole costituzionali delle democrazie moderne che le democrazie moderne si sono date riguardano i casi estremi se fossimo tutti buoni, se fossimo tutti d'accordo sostanzialmente le regole democratiche non servirebbero noi siamo uomini e donne con dei conflitti personali, politici, economici, di varia natura e per questo ci siamo inventati questo strumento un po' complicato e non perfetto che si chiama democrazia così come l'abbiamo conosciuto in occidente più o meno con alti e bassi da un paio di secoli e quindi è assolutamente un mito autoritario la casa di vetro è un mito autoritario ma badate che è un mito autoritario che è molto comune anche tra di noi anche in Italia io non entro nella discussione né legislativa né professionale sull'uso o non uso delle intercettazioni perché io non sono mai stato un cronista di giudiziaria e non mi sono mai occupato di cose di questo genere però negli ultimi venti anni nel discorso politico e politico giornalistico c'è stato intorno a queste cose si sono infilati degli argomenti che a prescindere da tutto quanto il resto sono pericolosi io anni fa ho citato anni fa perché è successo nel 2010 quindi ormai quattro anni fa sul mio blog un intervento della simpaticissima Luciana Littizzetto che a che tempo che fa la trasmissione di Fabio Fazio a un certo punto si indignò perché qualcuno aveva non so più quale politico era stato intercettato era stato pubblicato e a un certo punto lei esclamò ecco e poi c'è adesso tutta questa storia delle intercettazioni non so se hai sentito che non vogliono più le intercettazioni perché invadono la privacy capisci? e invece la gente che ci governa e ruba non invade la nostra privacy? fammi capire che si rischia la violazione della privacy ma insomma rischiamola e perché no? a me cosa me ne frega se mi intercettano? al massimo sento che parlo con un'amica e altre cose che ovviamente io non essendo Luciana Littizzetto evito di accuratamente di provare a rifarla allora questo è un senso comune che ho la sensazione che in Italia sia passata e che è sbagliato noi abbiamo diritto io direi sostengo addirittura il diritto costituzionale ad essere scemi o a fare cose stupide diciamo così va bene? che non è un reato fare cose stupide non è un reato può essere sgradevole per qualcuno che ha a che vedere con noi ma non è un reato e forse far vedere che faccio cose stupide può non essere o dico cose stupide o faccio cose stupide ho diritto di tenermelo per i fatti miei ecco io credo che questa cosa questo elemento sia un elemento che è molto filtrato negli ultimi 20-25 anni nella cultura politica italiana e anche nella cultura politica intendo di tutti noi non dei nostri politici in senso dei rappresentanti e questo forse attutisce un pochino le difese rispetto a notizie che vengono d'altrove come le questioni dell'N6 e cose di questo genere anche se le questioni dell'N6 ha poco a che a vedere con la privacy l'N6 non per dire come quelli che dicono ma tanto si sa che spiano ma spiano cioè queste sono spie le spie in Italia poi ci sono delle regole come si spia eccetera eccetera però il problema è che almeno almeno cominciamo a preoccuparci della riservatezza delle nostre vite dove non intervengono le spie poi ci occupiamo anche ovviamente delle spie perché sono molto più potenti ma non so come dire c'è un problema più di fondo secondo me ecco sì sì certo ti faccio una domanda da un milione di dollari che mi è venuta mentre parlavi dove sta secondo te o come si può tirare diciamo un confine tra il mito quello che tu chiami è un mito autoritario della casa di vetro e invece la trasparenza come un mezzo invece per rinvigorire la democrazia perché il confine da uno visto diciamo da fuori può sembrare labile perché alla fin fine uno dice più trasparenza fa bene però più trasparenza diventi completamente trasparente diventa molto male alla fine allora intanto bisogna capire la trasparenza di chi quali sono i soggetti a cui si chiede trasparenza diciamo che io non sono un teorico politico ma immagino che dal cittadino la gran maggioranza delle persone che sono qui stasera e invece il presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana evidentemente c'è una aspettativa di responsabilità e quindi anche di trasparenza in pubblico minore diversa diciamo così allora quindi da un certo punto di vista dipende di che cosa di chi si parla dall'altra io non sono neppure per la totale assoluta trasparenza dell'azione pubblica che di nuovo è una questione utopica che in realtà rischia di rischia di nascondere in luoghi reali o virtuali più oscuri ancora quelle parti che di fatto poi vengono di politica che sono riservate l'altra parte della mia domanda è che dobbiamo imparare ad accettare che il paradiso in terra non esiste che la democrazia liberale è una democrazia appunto di conflitti è un sistema di gestione dei conflitti e che quindi esiste una tensione una tensione tra il cittadino che chiede trasparenza e il politico che diciamo anche in un senso buono se è messo che esista vuole mantenere qualche cosa di riservato tra il giornalista che vuol sapere e la fonte che vuol tenere riservato è una è una dialettica io credo che leggi che definiscano in maniera precisa univoca e una volta per sempre questi confini siano molto dannose esistono dei principi e per questo che esistono le costituzioni esistono nel nostro caso i principi fondanti dei primi articoli della Costituzione e su questo dobbiamo un pochino abituarci a vivere con c'era un vecchio ex direttore del New York Times che parlando del famoso questione dei Pentagon Papers quando negli anni 70 il New York Times pubblicò a dispetto del governo degli Stati Uniti dei documenti del Ministero della Difesa sulla guerra del Vietnam nella teorizzazione del rapporto tra sicurezza di nuovo è la questione che è riuscita fuori con Obama e l'NSA tra sicurezza e legalità per esempio tra sicurezza e trasparenza lui diceva beh voi cercate di tenere segreto noi cerchiamo di sapere una volta vinci tu una volta vinco io capisco che è un pragmatismo americano forse un po' eccessivo però io credo che siano i principi la cosa importante e ognuno debba fare bene il suo mestiere fino in fondo rispetto a questa a questa cosa Casilli io mi chiedevo anche come parlavamo accennavo prima al modo diverso in cui diciamo queste rivelazioni sono state accolte a livello pubblico e questa secondo me pone una questione interessante cioè come si come si interseca diciamo la percezione di questo diritto alla privacy ancora oggi nelle diverse culture cioè c'è un qualche modo diciamo perché abbiamo visto per esempio che pur stando in Europa in Germania c'è stata una sollevazione popolare fondamentalmente a un certo punto sembrava che la Merkel addirittura il risultato delle elezioni sarebbe cambiato a seconda di quello che usciva dai documenti in Brasile anche c'è stata una grande è tant'è vero che poi c'è stato diciamo questo evento per cercare di net mondial appunto per un evento di internet governance che è stato diciamo tenuto in Brasile proprio per cercare di riconciliare anche perché una delle grosse conseguenze di questo scandalo appunto è che la governance globale di internet rischia diciamo di passare da una gestione più americano centrica diciamo a una gestione più multilaterale che poi bisogna capire che cosa significa naturalmente quindi come si configura questa questione si configura prendendo in conto degli equilibri che sono di ordine istituzionale ed economico se pensiamo alla Germania e in parte anche alla Francia degli esempi che conosco perché vabbè in Francia ci vivo lì la reazione è dovuta sostanzialmente al fatto che ci sono delle istituzioni particolarmente presenti che sono in Francia la CNIL che è l'equivalente del garante della privacy in Italia ma con poteri molto più forti con una presenza pubblica molto più garantita e in Germania perché c'è una grandissima tradizione di difesa della privacy che spinge i tedeschi per esempio a rifiutare a Google alla macchina all'automobile di Google di fare Google Street View questo succede non soltanto in Germania ma anche in Austria e questo per garantire la privacy delle persone perché in realtà ci sono alcuni edifici che sono caratteristici che sono talmente riconoscibili che poi vabbè comunque sappiamo che la macchina l'automobile di Google è stata capace di catturare i wifi le password e anche prendere delle foto delle persone fare delle foto delle persone che passavano in strada quindi effettivamente forse tutti i torti non lo avevano i tedeschi in particolare hanno spinto questo bisogno di garantire la privacy del cittadino al punto che ancora fino a qualche anno fa non c'era un censimento generale in Germania e questo per garantire in memori della tragica esperienza nazista che non ci fosse una categorizzazione della popolazione sostanzialmente quindi potete immaginare che in un contesto politico di questo genere le rivelazioni della NSA hanno scatenato a livello della società civile prima ancora di Merkel e del governo delle reazioni particolarmente forti e che hanno esercitato questo tipo di pressione e hanno legittimato le reazioni della Merkel questo dicevo si articola anche con delle situazioni economicamente complesse se pensiamo alla Francia al bisogno che hanno i francesi di affermare una fiscalità territoriale forte sui giganti di internet recentemente la Francia la Spagna hanno combinato delle multe particolarmente severe a Google e a Facebook con delle che sono dovute sostanzialmente a delle diciamo pratiche di ottimizzazione fiscale da parte di queste aziende non metto tra molte virgolette perché è anche un po' ridicolo parlare di ottimizzazione fiscale sostanzialmente si sono impiantati in paradisi fiscali che erano anche dei paradisi della privacy privacy habits quindi immaginiamoci una situazione che è particolarmente complessa il bisogno di regolare queste pratiche che sono delle pratiche economiche e se pensiamo ai paesi come il Brasile se pensiamo alla Russia questi paesi qui fanno parte di quei paesi che noi abbiamo definito come paesi emergenti c'è una sigla che viene utilizzata dalle persone che si occupano di strategia economica questi sono i paesi che si chiamano BRIC quindi sono i paesi Brasile, Russia India e Cina ci si è aggiunto recentemente il Sud Africa quindi si chiamano BRICSA adesso bene questi paesi hanno dei bisogni in termini di difesa della loro sovranità economica che fanno in modo che attualmente si ritrovino spiazzati dalle rivelazioni di Snowden soprattutto perché le rivelazioni di Snowden come dire rivelano i legami strettissimi tra aziende come Google e Facebook e altri e il governo americano queste aziende Google in particolare non sono delle aziende normali le dobbiamo immaginare come delle specie di portaeree sulle quali le altre aziende devono atterrare in una certa misura perché attualmente un po' per via dei contratti pubblicitari un po' perché abbiamo a che fare tutti quanti con dei problemi di referenziamento nei motori di ricerca come Google dobbiamo costantemente prendere in conto quello che Google o Facebook fanno con i loro algoritmi che possono avere degli impatti fortissimi per le economie nazionali quindi il fatto di non poter più avere o di scoprire come l'hanno scoperto a loro spese i brasiliani che Google era particolarmente sensibile alle esigenze del governo americano e che non stava lì a operare per il bene del mondo e per seguire il suo motto non fare il male questo è il motto assolutamente semplicistico di Google del resto ultimamente abbiamo visto che secondo me stanno da una parte lo stanno rivedendo un po' al ribasso perché nel frattempo stanno facendo delle cose mostruose Google sta comprando delle aziende che producono cani meccanici militari queste sono delle cose completamente nonché il progetto per sconfiggere la morte si va bene perché c'è tutto il lato transumanista tutto il lato di referenziamento genetico quindi i legami tra Google e delle aziende che fanno tracciaggio genetico insomma tutto questo diventa particolarmente distopico e pericoloso e sembra comunque rinviare a una evidenza una cosa che sembra evidente oramai e che diciamo che in questo senso sono un po' in disaccordo con lei quando lei diceva che non è le rivelazioni di snode non riguardano la privacy ebbè riguardano la privacy sì nella misura in cui improvvisamente la privacy è legata la nostra privacy attualmente passa per queste grandi piattaforme di dati e del resto sono solamente d'accordo adesso certo no vabbè era una maniera di affermare di insistere sul suo punto l'altra faccenda era per esempio che la prima rivelazione di Snowden è stata la rivelazione di Prism la rivelazione di Prism non è stata scelta a caso da Snowden Greenwald degli altri perché Prism era il programma della NSA che praticamente riusciva a catturare a aspirare i dati che noi stessi mettiamo sulle piattaforme sociali e questa è la cosa che sembra diciamo che è stata scelta giustamente perché ha un impatto per miliardi di persone abbiamo un miliardo e passa di persone su Facebook abbiamo molti più miliardi di persone che si servono di Google o che passano anche senza saperlo per Google e quindi in un certo senso che cosa stanno facendo ogni persona che fa una ricerca su Google è tracciata da Google ogni volta che io ricerco non lo so allergia primaverile Google sa che sono allergico ogni volta che io cerco malattie sessualmente trasmissibili Google sa che forse questa persona è interessata perché ha una malattia sessualmente trasmissibile e queste cose qui alla fine non hanno bisogno di big data o non hanno bisogno che ci spieghino cosa sono i metadati per farci capire quanto gravi e quanto sono importanti diventa alla fine un problema di dignità umana perché al di là di quello che noi facciamo o di quello che noi abbiamo il diritto di fare in un contesto di confrontazione democratica delle opinioni c'è soprattutto il fatto che ogni persona ogni essere umano ha degli aspetti della sua vita che non rivelerà mai a nessuno perché fanno parte di una intimità inviolabile che inizialmente era stata definita come una intimità che era la nostra sfera se vogliamo la nostra sfera corporale adesso la nostra sfera corporale invasa da questi giganti di internet che sono incollati al nostro corpo li abbiamo nella tasca li abbiamo qui in tasca eccoli qui e quindi nella misura in cui questa penetrazione è avvenuta e questo era un aspetto che noi discutevamo nel libro Against the Hypothesis of the End of Privacy che in italiano vuol dire contro l'ipotesi della fine della vita privata ecco noi dicevamo che attualmente proprio perché questa penetrazione è tale e tanta che non la possiamo più controllare stiamo riconfigurando la nostra maniera stessa di intendere il concetto di privacy la nozione di privacy attualmente è diventata una privacy come negoziazione negoziazione con chi? con le persone che fanno parte del nostro quotidiano online con i quali stabilisco secondo dei privilegi di accesso chi ha diritto di vedere cosa con le persone che fanno parte anche della mia realtà politica quindi per esempio con i governanti con le persone del mio governo ma anche con i proprietari di queste piattaforme di queste grandi piattaforme di network sociali il problema è che le rivelazioni della NSA ci hanno messo davanti a un dato di fatto che questa negoziazione è completamente sbagliata o piuttosto è una negoziazione nella quale noi abbiamo perso una capacità giustamente di imporre le nostre esigenze è come se noi stessimo combattendo sì ma con una mano dietro la schiena e quindi o forse con tutte e due le mani dietro la schiena attualmente infatti la domanda Mario è questa cioè noi effettivamente stiamo cioè ammettiamo anche che noi riusciamo a imbrigliare diciamo le spie e riusciamo a sottrarre diciamo le nostre vite a questa architettura di sorveglianza poi resta in piedi tutta la sorveglianza privata come dicevamo cioè tutta quella delle aziende che noi diamo volontariamente per questo dicevo giustamente diceva Casilli cioè alla fin fine ma stiamo combattendo o no questa cosa o la stiamo alimentando abbiamo le mani dietro le schiena sul serio e il fatto è che viviamo in un mondo complicato noi stiamo vivendo allora qui su questo palco non sono io il sociologo ma stiamo vivendo stiamo vivendo una rivoluzione no su questo non c'è discussione e come tutte le rivoluzioni sono certamente sanguinose e dolorose e non sappiamo mentre la viviamo esattamente a che punto dove andremo a finire a vedere signora mia e può essere pure che andiamo a finire in un posto che non ci piace per niente che sarà peggio di quello che abbiamo lasciato non è che è detto che le rivoluzioni per forza debbano essere delle belle cose però questa è la realtà allora in questa rivoluzione succedono delle cose che prima forse noi avevamo esperito soltanto come miti culturali uno dei miti culturali la biblioteca universale vedi là la traduzione automatica vedi là un altro dei miti culturali su cui l'occidente è vissuto per ecchio tempo è quello del patto mefistofelico il patto mefistofelico è quando Mephistofale ti offre una vita agiata facile ti facilita la tua vita in cambio di nulla soltanto della tua anima allora nel 2007 quindi cioè prima che tutti questi discorsi a un certo punto io soggettivamente mi accorsi perché ero molto grato a Google perché per le cose di cui mi occupavo all'epoca mi occupavo di sperimentazione multimediale ogni due mesi usciva fuori una cosa meravigliosa è un problema che avevo prima non ce l'avevo più la mia vita digitale diventava ogni due mesi più semplice e quello che facevo più efficace cioè erano progressi veri non erano balle dopodiché evidentemente qualcosa in cambio mi stava essendo chiesto e mi viene chiesto ed è la mia anima digitale scusatemi adesso la buttiamo un pochino a ridere però è esattamente quello cioè la nostra vita digitale il nostro essere digitale allora questo è è certamente la situazione in cui ci troviamo e dal 2007 a oggi sono passati tre quattro ormai altri sette anni e si sono fatti Facebook è diventato quello che sta e quello che è Twitter a sua volta e così via allora il problema è se siamo in grado come intanto individualmente di comprendere che stiamo vivendo questo conflitto questa proposta di scambio poi se collettivamente uno siamo in grado di uscirne secondo se veramente sia il caso io non ho una risposta una risposta una risposta precisa io so per certo che questo sta accadendo allora e questo è unito al fatto questo è un altro forse degli equivoci quando si parla di spionaggio che invece quando si va a parlare delle grandi piattaforme non si comprende l'universo digitale è passato dalla conoscenza campione alla conoscenza statistica sempre più i big data cosa sono? la possibilità che il dato marginale sia talmente comunque un numero talmente sufficiente di eventi che diventa significativo allora e quindi c'è l'inferenza statistica dei grandi dati che fa sì come è stato raccontato qualche tempo fa che ad una famiglia americana ignara arrivi l'avviso per i pannolini dei bambini perché la figlia adolescente era incinta ma in realtà non lo sapeva neppure la figlia adolescente perché queste cose accadono allora però è un mondo molto complicato che credo in questo momento veramente la cosa più importante che possiamo fare se ci riusciamo è cercare di capire cosa ci sta succedendo se posso permettermi l'altra cosa che possiamo fare è cercare di anticipare questo tipo di analisi basata sui grandi dati i grandi dati in realtà i big data non avrebbero ragione di esistere se non esistessero anche quelli che sono gli strumenti che servono a sfruttarli e a trasformarli in risultati di ricerca suggerimenti di consumo eccetera eccetera che sono gli algoritmi predittivi questi algoritmi predittivi sono delle forme di software sostanzialmente che prendono questi dati e che sono capaci di estrarre per esempio delle anticipazioni di comportamenti quindi giustamente sulla base di le persone con cui uno è connesso su Facebook e due o tre ricerche su Google per esempio posso anticipare che questa persona che ne so sia incinta oppure domani si iscriverà all'università e per esempio proporgli dei suggerimenti in termini di consumo quindi adatti alla sua situazione questo è un algoritmo predittivo perché predice in una certa misura però questi algoritmi sono anche prescrittivi cioè sarebbe a dire che ci spingono ci danno una spintarella in più quella necessaria per andare in una certa direzione certe volte può essere semplicemente la scelta di una marca o di un'altra certe volte il fatto di consolidare certe nostre attitudini certe nostre opinioni certi nostri comportamenti che ne so il fatto di questo lo vediamo quando studiamo che ne so il tipo di impatto di questi algoritmi sui comportamenti alimentari che possono provocare degli effetti di disturbi alimentari piuttosto forti ci vede che ne so attraverso Google scopriamo che amiamo molto il Mars e questi continuano a proporci Mars con una serie di conseguenze in termini di eccessi di zuccheri di abeti e via di questo passo dopo mi becco una denuncia da Mars ci ho detto quello che noi stiamo facendo attualmente in maniera ancora abbastanza disorganizzata ma in realtà sempre più cosciente è di introdurre noise ovvero sia disturbi rumore in questo tipo di raccolta di dati e di produzione di algoritmi predittivi e lo stiamo facendo facendo attenzione alla nostra privacy quindi lavorando bene sui parametri di vita privata lo stiamo facendo certe volte con dei comportamenti che sono dei comportamenti che sono considerati come illegali o certamente grigi problematici la creazione di falsi profili di falsi profili sui vari social network quindi io mi faccio un fake che serve semplicemente per sfuggire a quel tipo di tracciaggio di tracking che mi verrebbe attraverso i big die e certe volte lo facciamo introducendo giustamente questo tipo di conflitto al quale lei accennava che per me è importantissimo il fatto che la nostra democrazia le nostre democrazie siano basate sul conflitto delle opinioni su hearing the other side a stare a ascoltare quello che gli altri dicono che sono in disaccordo con noi quindi certe volte attraverso anche l'espressione del conflitto online stiamo introducendo del rumore io personalmente seguo moltissimo i fenomeni di trolling certe volte trolling di massa e questi per me sono dei casi di reazione certamente una reazione strana certamente paradossale e spesse volte veramente non difendibile degli utilizzatori che cercano di riaffermare una propria autonomia di comportamento rispetto alla prescrizione per esempio di amicizia assoluta di facebook su facebook per forza essere tutti quanti amici giustamente introduco un elemento di conflitto questa è una cosa che in italia si dice molto poco cioè il potenziale diciamo di tutela del dissenso anche della provocazione online perché è una cosa che si legge poco volevi concludere Mario prima volevo pure aggiungere un attimo poi passiamo magari le domande a proposito del fatto che in realtà mi sento abbastanza molto d'accordo con quanto ha detto prima il professore a proposito delle grandi piattaforme io userei queste espressioni internazionali perché anche là c'è una doppia faccia queste qua sono le piattaforme che tutti quanti noi usiamo e ci hanno consentito un'espressione una costruzione di relazioni più ricca più libera e al tempo stesso però ci condizionano c'è un giornalista americano leggermente più grande di me che Dan Gilmore che a un certo punto ha detto ma è possibile lui dice da americano che i diritti del primo emendamento noi potremmo dire i diritti stabiliti dall'articolo 21 della costituzione italiana siano soggetti ai termini di contratto di facebook o di google allora anche questo io non ho una risposta lui la risposta ce l'ha dice sì vanno regolati sono utilities come l'elettricità o l'acqua eccetera io non non ho risposte però certo questo è un problema un problema serio assolutamente vogliamo aprire un po' alle domande del pubblico così vediamo se buonasera vorrei dire perché perché in realtà non si incoraggia tutte quelle possibilità che ci sono di sfuggire a questi controlli completi assurdi costanti ad esempio la navigazione contorno è un programma che ci rallenta il computer ma ci rende un po' invisibili voi stessi pur parlando delle problematiche interessanti che avete introdotto di consigli su come sfuggire a questi spioni che in realtà non sono solo spioni ma sono delle ditte interessate alla nostra grana può mettere il microfono un po' sì non avete ancora dato dei consigli noi siamo qui per ascoltare con interesse quello che dite ma vorremmo carpire qualche informazione utile per vivere meglio che fare era quello che chiedeva Lenin esatto sì soltanto per dirlo uno dei tre workshop che abbiamo messo in piedi serve proprio a mostrare come funzionano questi strumenti perché secondo noi quello che lei dice è di fondamentale importanza per cui sicuramente una cosa che tratteremo verranno anche degli hacker diciamo a mostrarci degli esperti di sicurezza informatica a mostrarci come funzionano come si installano però certamente degli strumenti ci sono Tor che menziona lei è già un primo passo diciamo importante anche se come dice lei non consente di fare assolutamente tutto poi naturalmente ci sono vari strumenti per esempio non so penso a una chat che è molto semplice da usare che è una plugin di Firefox CryptoCat per esempio che è semplicissima da usare genera delle chiavi crittografiche a ogni conversazione è abbastanza da quanto so insomma è usato anche da persone che lo usano in maniera professionale per avere delle conversazioni riservate e questa CryptoCat alla fine basta averla come plugin di un qualunque browser che può essere in questo caso penso Chrome o Firefox sono quelli su cui si trova più facilmente poi ci sono se uno poi ha necessità diciamo di trasferire anche documenti in maniera riservata si può usare un sistema operativo completamente diciamo cifrato che è Tails che in questo caso il processo è un po' più complicato se vogliamo però al tempo stesso io però aggiungerei che questo tipo di consigli che vengono richiesti ci vengono richiesti praticamente ogni giorno però ci espongono anche ad un certo pericolo se vogliamo cioè io le posso pure consigliare installi Tor oppure usi Tails però poi domani mattina se per qualche folle motivo lei si trovasse ad essere veramente al centro che ne so di un'inchiesta di polizia improvvisamente questa cosa potrebbe essere utilizzata contro di lei oppure le ho citato che ne so i casi di persone che trollano su Facebook o che si fanno dei falsi profili certo questa è una cosa che io posso consigliare creare dei falsi profili per che ne so giustamente comprare pannolini o fare quello che si vuole ma non dimentichiamo che queste piattaforme impongono quella che oramai si chiama la politica dei real names ovvero sia secondo loro noi ci dovremmo iscrivere con la nostra identità civile quella scritta sulla nostra carta di identità il che è completamente abusivo come clausola e ciò nonostante viene imposta allora le posso dire si faccia un falso profilo su Facebook ma al tempo stesso rischia di farsi espellere da Facebook a causa di questo falso profilo quindi la difficoltà attuale è che c'è prima di tutto una zona grigia rispetto anche a queste stesse soluzioni che noi potremmo suggerire e poi che in questa zona grigia diciamo c'è una cappa ideologica che passa anche attraverso l'informazione dei differenti paesi voglio dire in Italia io adesso non ci vivo più da diversi anni ci torno una volta all'anno però ogni volta che torno vedo veramente il clima di terrore di terrorismo psicologico installato dai media su giustamente la criptografia o normali tecniche di protezione della privacy online ci sono sempre i pedonazisti ci sono sempre assassini e mostri ogni volta c'è questo clima terribile questa è una responsabilità che abbiamo noi giornalisti però comunque il punto fondamentale è che diciamo lo strumento in sé non garantisce la sicurezza c'è bisogno che quello strumento sia usato nel modo giusto e che ci sia una certa consapevolezza degli strumenti che vengono usati quindi la cosa che si può fare diciamo è cercare di capire come usarli al meglio in che circostanza perché poi alla fin fine se uno usa Tor ma ha sbagliato ma si va a googlare il suo proprio nome eh sì se sbagli un passaggio rischia che in realtà poi dopo si dà ancora più adito appunto a speculazioni da parte di chi come diceva il professor Casilli ti voglia intercettare in qualche maniera noi stasera ma non solo noi stasera perché per quanto poca attenzione ci sia stata in Italia un pochino se ne è parlato di queste cose naturalmente bene parliamo del problema della protezione della propria sfera privata nel contesto della nostra vita digitale ma parallelamente da anni il filo conduttore del chiamiamo la riflessione sul mondo digitale che avviene nel mondo politico contro l'anonimato allora vorrei che ciascuno di noi francamente si interrogasse perché quei conflitti di cui dobbiamo parlare in realtà albergano dentro di noi quando sentiamo un politico dire eh ma sì ma insomma quest'anonimato bisogna che emerga no? ora stiamo qui discutendo perché quest'anonimato forse non c'è abbastanza invece oppure no oppure sì allora questo il dopodiché la stragrande maggioranza dei nostri politici eh eh ahimè temo una buona parte pure dei nostri giornalisti dei miei colleghi non hanno una sufficiente cultura digitale per accorgersi che in realtà eh siamo ben identificabili nel nella nostra nella nostra vita digitale eh però io chiederei a ciascun cittadino no? di analizzare se stesso per capire questa dicotomia di speranza o di aspirazioni no? tra riservatezza e invece pubblicità sì quello è il problema che dici tu è esattamente cioè è verissimo perché alla fine anche io mi sono occupato un po' di proposte di legge per esempio sul cyberbullismo ultimamente che è un tema che va per la maggiore e tutti nel preambolo partono dalla frase che ormai sembra scritta standard no? non so chi l'abbia scritta ma l'hanno presa e copiata coperto dal vantello dal velo dell'anonimato il criminale può agire indisturbato irreperibile è la cosa più falsa dell'universo semplicemente quindi quando tu hai una legge che si propone di tutelare la cittadinanza soprattutto le parti più deboli i ragazzi giovanissimi da un problema che è reale ma che è molto più complicato del suo aspetto internetiano diciamo quando parte una legge da questa premessa è chiaro che poi dopo il resto della norma non può essere efficace quindi una delle cose che si sta cercando di fare anche il governo in questo sta cercando di muovere da quanto ho capito è promuovere delle linee guida e dei progetti di educazione al digitale anche nelle scuole e queste cose diciamo che rispetto all'approccio repressivo che si è visto molto spesso anche in progetti recenti è già un passo avanti se vogliamo perché se non altro la repressione diciamo scompare o passa in secondo o terzo piano e l'aspetto preponderante questa è una cosa che ha detto anche a Perugia al Festival del giornalismo recentemente il garante della privacy proprio la prima cosa deve essere l'educazione cioè sapere in che mondo ci stiamo muovendo come diceva Tedeschi di Lalli prima cioè capire è molto complicato perché poi alla fin fine quello che emerge secondo me per larghissimi capi è che questa situazione fa un po' comodo a tutti cioè l'ecosistema di internet attuale è basato sulle masse sterminate di dati che sono quelle che noi produciamo volontariamente fanno comodo alle aziende perché ci possono profilare possono venderci la pubblicità fa comodo a noi perché ci possono personalizzare la pubblicità darci servizi gratuiti perché questo è il punto questi servizi sono gratuiti perché il prodotto siamo noi fondamentalmente e questa è una cosa che si sa da molto tempo lo diceva Negroponte negli esami tra gli anni 90 se non sbaglio e poi fa molto comodo ai governi perché ci possono controllare in una maniera che nemmeno la stasi si poteva immaginare cioè c'è questa triade diciamo di soggetti che sono tutti felici fondamentalmente e paradossalmente però ci ritroviamo ad andare in un mondo verso un mondo che è sempre meno democratico sempre meno buono è sempre più distopico fondamentalmente perché è un mondo dove siamo tutti controllati tutti felici e le multinazionali comandano come se fossero e si comportano come se fossero stati assomiglia al mondo nuovo di Huxley cioè non è tanto Orwell secondo me il romanzo per capire la contemporaneità ma Huxley proprio però per esempio direi che per rivenire a quello che dicevi cioè che un po' tutti ci guadagnano i consumatori in particolare perché ci propongono dei deal dei buoni affari certo per quanto tempo voglio dire questa situazione andrà avanti così stiamo già vedendo che questi algoritmi predittivi sono uno molto meno neutri rispetto al passato due molto meno benevoli quello che vediamo per esempio è come le banche le assicurazioni due settori particolarmente a rischio in termini di manipolazioni stanno servendosi di questi big data l'esempio che possiamo dare giusto per continuare sull'esempio che davo dei disturbi alimentari immaginiamo che a me per esempio piace la pizza e perché lo voglio far vedere ai miei amici ogni volta che mangio una pizza prendo una foto e la metto su facebook niente di più innocente e se ci pensiamo niente di più di meno problematico per la mia privacy lo faccio per un anno due anni vent'anni trent'anni tra trent'anni magari sviluppo una malattia cardiovascolare e vado dalla mia assicurazione e dico beh curatemi e loro dicono e no ciccio hai avuto un ciccio giustamente nel frattempo hai avuto un comportamento a rischio per trent'anni hai avuto un comportamento a rischio per trent'anni e noi lo vediamo perché abbiamo comprato da facebook tutto quanto il tuo il tuo profilo e su questo abbiamo visto che praticamente ogni tre giorni mangiavi una pizza con il formaggio e via di questo passo è tutto documentato tutto documentato tutto documentato questo si trasforma in un malus giustamente per la mia per la mia assicurazione si trasforma in uno svantaggio enorme e quindi se per trent'anni ho goduto degli sconti che mi facevano sui prodotti alimentari poi alla fine pago giustamente il patto mefistofelico ecco lo pago alla fine perché mi ritrovo con nel momento decisivo per esempio con la mia banca che non mi dà un prestito oppure con la mia assicurazione che mi fa aumentare il premio per l'assicurazione e la salute e via di questo passo quindi immaginiamoci anche questo in una prospettiva di lungo periodo perché oramai il lungo periodo è là voglio dire google sta lì da 15 anni facebook oramai da 10 quindi insomma potrebbe collassare diciamo la maschera potrebbe cadere ci potremmo ritrovare davanti sostanzialmente a un sistema predatorio di grandi aziende che hanno preso e aspirato i nostri dati per decenni e che se ne servono non certamente per degli scopi benevoli perché comunque sia quello che al di là di quello che abbiamo discusso stasera a proposito dei legami forti con governi di dubbia reputazione soprattutto sul piano della difesa dei diritti umani abbiamo anche il fatto che queste sono delle aziende che puntano alla massimizzazione del loro profitto e il loro profitto lo fanno a spese nostre quindi si poi naturalmente c'è da dire che tutto questo non avviene soltanto negli Stati Uniti naturalmente in Russia in Cina sappiamo che ci sono strumenti di sorveglianza e apparati di controllo che sono almeno altrettanto sofisticati diciamo per cui tutto questo non vuole essere un discorso anti-americanista di Ociscampi è un problema globale naturalmente il problema è che noi naturalmente degli Stati Uniti sappiamo perché è una società comunque dove c'è una possibilità diciamo diciamo che negli Stati Uniti appunto come anni fa disse il direttore del New York Times che citavo prima esiste il riconoscimento del conflitto almeno tra sicurezza e libertà e quindi ogni tanto questo conflitto emerge in altre società questo conflitto tra sicurezza e libertà è risolto in noce perché la sicurezza così come definita da chi è detenuta e chi detiene il potere di definirla è il paradigma che comanda diciamo che è detta la legge qualche domanda ancora? niente questa mattina si è parlato di semplificazione sburocratizzazione quindi la pubblica amministrazione che in qualche modo anche attraverso nuove tecnologie vuole trovare una soluzione ecco come la vedete la presenza quindi delle pubbliche amministrazioni sui social media anche diciamo in base alle cose che sono state appena dette quindi la rilevanza anche diciamo da un certo punto di vista della privacy degli aspetti anche diciamo personali e legali e così tutto questo una vostra opinione in merito grazie beh allora ci sono diverse maniere di vedere l'amministrazione in generale quello che per anni si è chiamato l'e-government e la loro presenza sui social media perché inizialmente questa presenza era sostanzialmente finalizzata degli scopi di comunicazione prossimità con il cittadino comunicazione informazione ma tutto era molto top down cioè l'amministrazione emetteva un messaggio che veniva passato attraverso diversi canali quindi potevano dirlo alla tv o lo dicevano su facebook sostanzialmente il principio era lo stesso attualmente ci troviamo di fronte a delle possibilità e a volte anche delle pratiche che iniziano a diventare problematiche immaginatevi il caso non troppo lontano nel tempo purtroppo nel quale noi ci connetteremo al sito del fisco per pagare la nostra dichiarazione dei redditi identificandoci con la nostra identità google plus oppure con il nostro profilo facebook in questo caso ci ritroviamo a dare senza saperlo cioè in realtà lo sappiamo ma senza troppo dargli importanza a dare a queste piattaforme ovvero sia facebook google e compagnia accesso alla nostra dichiarazione dei redditi e quindi a tutta una serie di informazioni personali che passano completamente superano completamente quello che inizialmente avevamo stipulato con le piattaforme in questione quindi ci troviamo di fronte quando questa possibilità tecnologicamente si presenta ed è già lì presente ci troviamo di fronte al bisogno di regolare ecco questo l'avevamo evocato regolare soprattutto perché queste piattaforme oramai sono diventate delle infrastrutture prima si diceva sì delle infrastrutture paragonabili all'elettricità e all'acqua in realtà sono già l'elettricità e all'acqua pensate alle smart grids cioè sarebbe a dire per esempio al consumo elettrico tra virgolette di elettricità intelligente pensate agli oggetti connessi di internet of things l'internet degli oggetti quando il vostro frigorifero comunicherà a internet quanto avete mangiato o allora il vostro contatore di elettricità comunicherà quante persone ci sono in casa quante luci sono accese ecco che vediamo che alcune diciamo così strutture dello Stato saranno costrette a confrontarsi con questa questione dei dati e dei dati che passano attraverso delle infrastrutture private in maniera piuttosto urgente in realtà l'urgenza è già lì e gli stati a livello europeo stanno interrogandosi su questo stanno veramente chiedendosi cosa fare già adesso e quindi voglio dire abbiamo superato lo stadio iniziale nel quale sostanzialmente l'e-government era sostanzialmente quello di fare un sito web all'epoca o un cd-rom addirittura per informare i contribuenti un amico avvocato ha scritto recentemente sul suo blog che ancora per avere gli atti di un procedimento è possibile averli anche con i vecchi floppy disk e c'è un prezzario naturalmente in carcelleria per questo ma detto questo si farebbe troppo facile fare le battute sull'amministrazione e non parliamo poi dei giornali ma io non sono un esperto di pubblica amministrazione tranne come cittadino naturalmente ma insomma l'ho sfiorata un pochino in questi ultimi anni come parte di un gruppo di persone giornalisti storici archivisti pochi politici che si stanno spendendo per cercare di introdurre per tornare al discorso della trasparenza di introdurre in Italia una legislazione sulla trasparenza degli atti e sulla accessibilità degli atti simile diciamo ai cosiddetti Freedom of Information Act in America in Inghilterra e in altri in altri paesi Svezia prima di tutto e in altri paesi del mondo allora in questo in questo e parallelo a questo c'è un movimento che porta probabilmente immagino oggi non so qualche dibattito ci sia stato ma immagino si sia anche parlato di Open Data che è una cosa molto importante cioè i dati la pubblicazione dei dati della pubblica amministrazione in forma aperta e riutilizzabile che non è così ovvio perché quando pure si pubblicano certe volte si mettono delle fotocopie cioè di PDF sui siti allora io nella piccola esperienza che ho avuto di questi ultimi due o tre anni ho la sensazione che ci siano alcune sia pur piccole ma non marginali parti della pubblica amministrazione in Italia che in questo specifico campo sono particolarmente sensibili e particolarmente attive la mia preoccupazione è piuttosto da cittadino e da giornalista che i cittadini e i giornalisti non colgano questo movimento utile che sta avvenendo all'interno di una buona parte delle pubbliche amministrazioni e che i dinosauri all'interno della pubblica amministrazione dicono ma vedi ci avete fatto spendere soldi tempo energie abbiamo dovuto fare le leggi o applicare in maniera diversa le norme che già avevamo e dopo di che il cittadino non gli era in porto da nulla il giornalista continua a chiedere la dichiarazione fuori dalla porta perché è l'unico modo che conosce per raccontare ciò che accade noi abbiamo lavorato ho fatto parte per qualche mese di questo gruppo di lavoro che si chiamava diritto di sapere hanno fatto un rapporto che era il primo studio sul campo di come le amministrazioni pubbliche rispondono o non rispondono alle richieste di accesso ai dati che dovrebbero essere di pubblico dominio e il risultato è stato che mi sembra la risposta adeguata giudicata adeguata è giunta nel 13% mi sembra dei casi oltre il 70% erano addirittura non risposte se non sbaglio quindi i dati sono terribili e ancora comunque per esempio nella riforma della pubblica amministrazione che sta studiando il governo Renzi il Freedom of Information Act non c'è nonostante Renzi l'abbia menzionato ripetutamente in campagna elettorale addirittura in campagna elettorale è quella per le primarie ancora quindi sono anni che parla di FOIA pensando che significhi mettere le spese della pubblica amministrazione online che non c'entra nulla naturalmente perché il FOIA è una forma di trasparenza invece reattiva cioè il cittadino chiede dei documenti e la pubblica amministrazione deve rispondere non è una forma di pubblicazione che si mette lì il dato e il cittadino vi accede cioè questa è un'altra cosa e naturalmente anche sempre a Perugia c'era Coppola che tra l'altro è qui in regione e diceva appunto che sta cercando insieme ad altri di far passare un emendamento che introduca diciamo degli elementi di novità rispetto a quelli che sono i limiti della normativa attuale che sono molto stringenti però di FOIA non si è parlato e anche questo è un segnale secondo me insomma voglio dire se uno vuol dare un segnale di cambiamento forte piazza dentro un Freedom of Information Act all'interno del problema della pubblica amministrazione tanto comunque la sollevazione popolare nelle amministrazioni pubbliche c'è stata lo stesso a questo punto li fa incazzare un po' di più ci mette dentro anche quello ci potrebbe fare volendo mi chiedo soltanto se questo dato che davi tu a proposito del fatto che il 70% non ricevevano risposta non sia una cosa cross settore privato e pubblico stavo parlando quest'estate con no che dico qualche mese fa in realtà con i responsabili di una ONG che si chiama Europe vs Facebook sono degli austriaci che hanno fatto una serie di azioni contro Facebook eccetera e loro mi davano queste cifre che sono abbastanza impressionanti per me dicevano che sono di 400.000 richieste che Facebook ha ricevuto per avere accesso ai dati cosa che ancora una volta dovrebbe essere prevista dal contratto che noi facciamo con Facebook nel momento in cui ci iscriviamo penso che il 93% non abbiano ricevuto risposta quindi è molto più alta e le altre persone hanno ricevuto semplicemente appunto una chiavetta USB che conteneva un decimo di quello che Facebook aveva effettivamente voglio dire quindi insomma la faccenda è che non ci illudiamo che il settore privato sia molto più avanzato da questo punto di vista se c'è un'ultima domanda poi chiudiamo c'è? non vedo tutto chiaro? io non vedo proprio ecco qua grazie c'è un un pericolo di un di un ricasco negativo oltre a tutte le cose di cui abbiamo parlato dello scandalo NSA in tutte le sue facce ed è un una richiesta che vedo montante da parte di governi prima di tutto ma un po' anche da parte di cittadini verso un una rinazionalizzazione della nostra vita digitale allora non so neppure se potrebbe avvenire ma se fosse questa è una cosa che a me preoccupa dice ma allora mi sento più protetto come se facciamo tante piccole internet nazionali che si fermano a 20 miglia piuttosto che a Malta e Malta come fa allora io questo per dire quanto mi dispiace non ho risposte da questo punto di vista viviamo un mondo confuso una rivoluzione dolorosa però questi sono dei problemi che stanno nascendo questo è un rischio di tipo politico politico internazionale è un rischio che sta denunciando in particolare Tim Berners-Lee diciamo che è l'inventore del web del world wide web dice appunto lui la chiama balcanizzazione di internet nel senso appunto che internet rischia di diventare una serie di isole scollegate che poi la snaturerebbe di fatto perché nasce come architettura globale lì aperta e quindi questo è sicuramente il rischio diciamo più grave a livello di governance di internet globale che è la conseguenza che magari noi cercheremo vorremmo poter evitare perché mettere in mano perché la scusa diciamo lo stratagema narrativo dei regimi autoritari è dire no bisogna sottrarre il controllo degli Stati Uniti darlo all'ITU che è un organo dell'ONU il che significa naturalmente in realtà dare il controllo dei singoli Stati il che significa dare il controllo di tutta l'infrastruttura di rete alla Russia per dire in Russia alla Cina in Cina con tutte le conseguenze in termini economici anche che potrebbe avere questo per gli investimenti in che misura noi non siamo già in questa situazione voglio dire mi chiedo se le inquietudini di Tim Berners-Lee rispetto alla balcanizzazione non siano piuttosto una pia illusione che internet sia mai stato questo network decentrato che si diceva all'inizio voglio dire quando i primi teorici di internet stiamo parlando di matematici che facevano teoria dei grafici negli anni 70 fine degli anni 60 si immaginavano internet si immaginavano come una rete decentralizzata cioè una rete nella quale non ci sono delle zone di centralità che hanno più influenza che le altre la realtà è che dal punto di vista tecnico ovvero se di dove passano i cavi queste zone di bottleneck cioè di strutture ce ne sono ce ne sono perché i cavi devono passare da certe parti che carcano la geografia della terra molto fascinante da vedere dall'altra parte voglio dire ci sono dei paesi che da anni hanno fatto una scelta estremamente radicale di isolamento che non è un isolamento vero e proprio sto pensando alla Cina la Cina di cui si parla molto poco recentemente da diversi anni ha fatto una scelta di mettere attorno a tutte quante le comunicazioni del suo paese quello che si chiama il grande firewall di Cina quindi la grande muraglia elettronica di Cina ma all'interno non vi immaginate che ci sia il deserto al contrario hanno ricreato non direi in piccolo perché comunque abbiamo a che fare con un miliardo e passa di utilizzatori potenziali hanno ricreato tutta una serie di strutture di network che sono state fatte a livello locale quindi c'è Sina Weibo che è il twitter francese sì francese vabbè quelle pure cinese c'è Renren che è il facebook cinese QQ che è un po' un incrocio tra i vari diversi tutti quanti quindi comunque sia il principio è blocco e sorveglio come diceva un famoso attivista di internet si chiama Michael Antti quindi blocco e sorveglio è la strategia cinese e troppi stati oramai stanno rivolgendosi alla Cina dicendo beh non era poi una cattiva idea la Russia prima di tutto lo vediamo con quello che è successo recentemente con Vecontact Vecontact è un servizio che è il facebook russo e non l'hanno censurato al contrario ci tengono che ci sia una libertà di espressione perché a loro naturalmente più la gente prende rischi in termini di espressione più loro poi possono controllare ma quello che è successo è che a livello di dirigenza dell'azienda Vecontact ebbè gli uomini di Putin si sono praticamente impossessati prima del 51% delle azioni e poi hanno decisamente cacciato il fondatore Pavel Durov che attualmente vive in esilio quindi ci troviamo davanti a una situazione in cui Pavel Durov che è uno che ha rifiutato di collaborare con la sorveglianza di massa di Putin è attualmente in esilio Mark Zuckerberg che con la sorveglianza di massa di Obama diciamo ci è andato a nozze per diverso tempo è ancora lì bello tranquillo ma per quanto tempo ancora per concludere su una nota allegra esatto vi ringrazio per l'attenzione e buona serata a tutti quanti grazie grazie